Vi mostrerò del perché come ha introdotto il professore è cambiato il pattern di recidiva e soprattutto perché è cambiato l'algoritmo terapeutico parlando brevemente di quello che è successo nella prima linea di trattamento. Il professore ha introdotto il concetto di come avevamo la necessità di cambiare la storia naturale del tumore ovarico cercando di allungare questi intervalli qui tra la malattia e le successive recidive e ovviamente tutto questo era iniziato a cambiare qualche anno fa con l'introduzione del Bevacizumab di mantenimento dopo il trattamento della chemioterapia a base di platino. Per anni ci siamo accontentati di circa sei mesi di progression free survival ma nel momento in cui sono arrivati gli inibitori di PARP ovviamente le curve sono iniziate a cambiare, i primi studi sono stati in seconda linea perché ovvio che quando testiamo un nuovo farmaco cerchiamo sempre di testarlo in un setting più avanzato valutandone poi i risultati e se necessario testandolo in prima linea. Come è cambiata la storia della farmacologia con gli inibitori di PARP? Intanto cos'è PARP? PARP è un'enzima che provvede alla riparazione dell'elica del DNA della cellula tumorale quindi nel momento in cui noi blocchiamo PARP induciamo l'apoptosi, induciamo la morte cellulare perché la cellula tumorale non è in grado di ripararsi e quindi muore. Siamo partiti dal valutare quattro molecole di questa classe, olaparib, rucaparib, niraparib, talazoparib. Oggi ci concentreremo nel valutare olaparib e niraparib perché rucaparib per un problema e fallimento dell'azienda che aveva brevettato la molecola non è più possibile utilizzarlo e dal punto di vista dell'efficacia hanno dimostrato tutti di essere equamente efficaci. Ci sono delle differenze in termini di farmacodinamica e farmacocinetica, in termini di emivita, in termini di tossicità e interazione con altri farmaci e quindi molte volte la scelta può varare su questo. Nel corso del tempo abbiamo capito che la malattia più sensibile a questa classe di farmaci era la malattia con mutazione del gene BRCA. Questa è una diapositiva che racchiude tutti i dati in tutte le sottoclassi di pazienti dei farmaci appena nominati e degli studi di prima linea ma iniziamo a vedere nel dettaglio. Ovviamente il primo farmaco che ci ha dato i primi dati è stato l'olaparib. con il primo studio, lo Stadi 19, che già vedeva come in una sottopopolazione definita di pazienti, cioè le pazienti con la mutazione del BRCA rispetto a placebo, dava un incremento netto della progression free survival di 11 mesi che era già nettamente superiore a quello a cui eravamo abituati con il Bevacizumab che era di circa 6 mesi. Il solo 2 era uno studio ovviamente confermatorio ma non solo confermatorio, mostrava come i dati erano ancora più interessanti e quindi sono stati poi in seconda linea associati gli altri studi con gli altri inibitori di parpa vediamo il Nova e l'Ariel che confermavano come il farmaco era efficace e negli altri studi vedevamo come non solo la popolazione BRCA mutata ne beneficiava ma gli studi Nova e Ariel mostravano come anche le pazienti wild type potevano beneficiare e a quel punto sono iniziati gli studi di fase 1. Il solo 1 è stato il primo studio che ovviamente ha cambiato la storia dal punto di vista della terapia nessuno di noi potrà dimenticare la standing ovation alla plenaria dell'ESMO 2018 quando sono state mostrate le curve non solo di PFS ma anche di soprattutto overall survival. Lo studio solo 1 metteva in evidenza come la terapia di mantenimento con Olaparib nelle pazienti stadio terzo quarto sottoposte a chirurgia ottimale in risposta completa o parziale potevano beneficiare del mantenimento. I dati erano già nettamente importanti dopo due anni di valutazione oggi abbiamo un follow up che arriva a 7 anni e possiamo dichiarare che i dati di overall survival ancora non sono disponibili ma a 7 anni abbiamo il 67% delle pazienti trattate con Olaparib che sono vive e io credo che potremmo iniziare anche a pensare che una quota di pazienti possa essere definitivamente guarita. Dal punto di vista della tollerabilità diciamo che sono farmaci che hanno mostrato non avere un tratto di discontinuazione importante. Sappiamo che sono state registrate tra gli effetti più terribili delle sindrome ematologiche acute come leucemia mieloide acuta però i dati del follow up a 5 anni a 7 anni dimostrano come i tassi sono, cioè le percentuali sono comunque basse e quindi oggi nessuno di noi può non pensare di trattare una paziente. Dopo aver identificato la mutazione del BRCA in realtà lo studio della biologia molecolare ha aperto nuovi orizzonti perché oggi sappiamo che se una parte della patogenesi è dovuta alla mutazione del BRCA in realtà abbiamo anche identificato dei deficit a livello del sistema della ricombinazione omologa che è un sistema che interviene sempre nella riparazione del danno genetico e lo studio prima, lo studio cioè con Niraparib nella terapia di mantenimento di prima linea ha mostrato in realtà come l'efficacia del trattamento in termini di PFS non era visibile solo nelle pazienti con mutazione del BRCA ma introduceva il concetto di deficit di ricombinazione omologa e quindi la necessità di testare le pazienti anche da questo punto di vista. Vediamo come qui le curve sono nettamente favorevoli in queste due sottoclassi di pazienti vediamo come anche nelle pazienti definite così proficient c'è sicuramente un beneficio rispetto al placebo anche se di minore entità. Nello studio la valutazione della ricombinazione omologa era effettuata tramite il test Myriad MyChoice oggi è ovvio che si sta cercando oltre Foundation One si sta cercando di identificare dei test accademici anche per una questione di semplice economia e vediamo come il forest plot dello studio prima mostra che la PFS era importante in tutte le sottocategorie dei pazienti ma ovviamente quelle con mutazione del BRCA e HRD positive. Un dettaglio non trascurabile inerente a questo studio e ai dati che vi mostrerò dopo è che le pazienti dello studio prima erano comunque pazienti ad alto rischio perché erano pazienti che non avevano ricevuto una chirurgia ottimale, che avevano un residuo di malattia o addirittura stadio quarto. Rimane comunque il concetto fondamentale della chirurgia. Io credo che come ci insegnano i colleghi chirurghi l'outcome della paziente cambia se la paziente viene sottoposta ad una citoriduzione ottimale e quindi la terapia medica può essere solamente di supporto. Quindi oggi non possiamo pensare che siccome abbiamo il PARP che ci permette di aumentare l'intervallo libero da malattia questo possa riparare una chirurgia non ottimale. Assolutamente no. Per quanto riguarda il follow up a tre anni e mezzo nello studio prima vediamo comunque come il dato di aumentata PFS viene mantenuto a tre anni e mezzo abbiamo comunque un dato di PFS di 24 mesi e sinceramente a tutto questo non eravamo abituati. E' ovvio che questi studi sia per la differente categoria dei pazienti arruolati non possono essere comparati l'uno con l'altro e per ovviare alla critica che veniva fatta allo studio prima, cioè di non aver arruolato pazienti con chirurgia ottimale è stato disegnato dall'altra parte del mondo lo studio Prime che arruolava pazienti stadio terzo quarto sottoposte a citoriduzione ottimale e quindi senza residuo di malattia. A maggior ragione qui il dato viene confermato e quindi conferma anche quello, vediamo qui in basso a destra i tassi delle pazienti sottoposte a chirurgia R0 e le curve nettamente a favore del niraparib e anche migliori se vogliamo dello studio prima dimostrano come il farmaco è efficace ma soprattutto come il ruolo della citoriduzione ottimale possa cambiare il dato. Possiamo quindi confermare che esiste un consistente effetto di classe di questi farmaci soprattutto nelle pazienti con mutazione del BRCA con deficient del sistema di ricombinazione omologa e comunque un minimo effetto anche nelle pazienti proficient. Per valutare se il Bevacizumab che abbiamo usato per anni potesse continuare ad avere un ruolo ed è quello che ancora oggi con i chirurghi continuiamo a chiederci è stato disegnato lo studio Paola 1 con un limite abbastanza importante nel momento in cui è stato disegnato cioè di valutare l'associazione Olaparib Bevacizumab ma con un braccio di controllo che oggi si può considerare un po' anacronistico perché il braccio di controllo è il mantenimento con solo Bevacizumab. Nonostante questo limite però la combinazione ha dato un risultato importante in termini di PFS nella classe di pazienti HRD positive sia con mutazione di BRCA sia wild type dal punto di vista del BRCA non ha mostrato invece risultati nelle pazienti deficient. Con un follow up di 5 anni possiamo dire che abbiamo un dato di overall survival perché a 5 anni il 47% delle pazienti trattate HRD positive è ancora viva. Dal punto di vista, queste sono sempre curve che mostrano come la combinazione è efficace, dal punto di vista della tossicità è ovvio che l'interazione tra due farmaci può determinare qualche effetto tossico in più ma dal punto di vista delle leucemie e delle sindrome melodisplastiche non si è verificato un aumento. E per capire se quindi il Bevacizumab oggi è un farmaco che deve essere completamente abbandonato nonostante credo che un ruolo possa mantenerlo soprattutto nel trattamento neoadjuvante perché forse ragionando con i chirurghi quello che sappiamo è che nelle pazienti con tanta malattia peritoneale malattia ascitogena in realtà il Bevacizumab ci aiuta però abbiamo visto come sia importante oggi pensare al trattamento del PARP in prima linea. Per questo motivo c'è in corso uno studio che si chiama Nirvana che valuta l'associazione del Niraparib e del Bevacizumab con un braccio di controllo che è quello che oggi noi utilizziamo che è il Niraparib. Quindi credo che attendere questi risultati possa essere interessante. Alla luce di tutto quello che vi ho mostrato finora è ovvio che è cambiato l'algoritmo di trattamento e questo è quello che facciamo con Francesco e i colleghi nelle nostre riunioni multidisciplinari. Ripeto e stresso il concetto che soprattutto è quello che mi guida ogni giorno in ambulatorio che è la cronicizzazione della malattia è sicuramente necessaria con i nostri trattamenti medici ma tutto questo passa da una chirurgia ottimale iniziale perché noi ancora prendiamo le pazienti da un certo punto in poi ma se la paziente non è stata ben operata ovviamente non possiamo cambiare la storia della sua malattia. Vi lascio solo con due riflessioni che credo poi nell'arco della mattinata saranno comunque sviscerate cioè se nel momento in cui oggi possiamo prescrivere il PARP a tutte le pazienti ancora senso pensare alla profilazione genomica io penso di sì perché ha comunque un ruolo prognostico e predittivo e soprattutto se la nostra scelta deve passare comparando studi che abbiamo visto essere comunque differenti. Io credo che la scelta passi comunque dalla presentazione clinica della malattia, dal partner molecolare, dalla paziente, dalle sue comorbidità, dalla chirurgia ed anche dalla tossicità. Vi ringrazio.